Siamo a conclusione della partita di recupero tra il Girifalco e il Parghelia con mister Cossari. Mister, una partita giocata bene, peccato per il risultato. Sì, in effetti io sono abbastanza soddisfatto della nostra partita, soprattutto il primo tempo, abbiamo costruito tanto e peccato perché, come dicevo la scorsa volta, facciamo una fatica enorme a trovare il gol. Ci ha contribuito anche notevolmente l'arbitro in questa partita che ha inciso negativamente nei nostri confronti. Sicuramente questo non è alibi, però comunque è un gol annullato dove secondo me il fuorigioco non c'era. Due rigori netti clamorosi non dati a noi e quindi questo dispiace. Dispiace perché per queste partite secondo me servono arbitri di personalità e così non è stato. Fermo restando che io comunque faccio i complimenti al Parghelia che è una bellissima squadra. Mi è piaciuto soprattutto il primo tempo della partita, meno il secondo tempo perché comunque poi si è incattivita la partita e quindi si è badato più ad altro purtroppo che a giocare a pallone. Questo dispiace. Ad ogni modo comunque comunque contento della prestazione dei miei ragazzi come dicevo prima, soprattutto nel primo tempo. Dispiace per questi arbitri perché queste partite meritano arbitri di personalità e così oggi non è stato. Grazie.